Tutti i nostri tutorial sono audio descritti. In descrizione trovi il link all'articolo su Orbolandia con l'opportunità di scaricare direttamente le applicazioni o documentazione di supporto a questo video. Salve a tutti cari amici di Orbolandia da Filippo De Santis. Oggi sono qui per questo secondo tutorial sui fogli di calcolo con Numbers. In questo secondo tutorial vedremo due funzionalità più specifiche proprio relative a Numbers, ovvero quella dei calcoli nel vero senso della parola e quindi utilizzare i fogli di calcolo in maniera più pertinente. Lo vedremo con due fogli di calcolo che sono quello per il budget personale, ovvero le entrate e le uscite, e un altro per le presenze, dove potremo inserire in un foglio, a parte i nominativi delle persone che vogliono registrare la propria presenza, il numero di ore e il totale dei giorni nell'arco della settimana in cui la presenza si è verificata. Allora, vedremo anche altre funzionalità, diciamo che non abbiamo visto nel primo tutorial, come l'immissione o meglio la predisposizione di una password di protezione per il foglio e l'altra cosa, chiamiamola così, protezione da modifiche accidentali tramite il blocco in modalità lettura, il blocco del foglio in modalità lettura. Allora, apriamo subito un foglio e iniziamo da quello per il budget personale, quindi quello delle spese. Vedremo molto marginalmente come compilarlo, vi darò delle indicazioni, ma poi utilizzeremo per vedere delle cose un pochino più specifiche un foglio già compilato, dove ci sono stati già inseriti, in modo tale da non perdere tempo a effettuare l'inserimento, dove sono stati inseriti i relativi dati. Allora, apriamo intanto l'applicazione File, file, ecco qui, questo è il file, doppio tap, allora, abbiamo aperto questo file per le entrate e le uscite, come al solito si posiziona nell'ultima posizione dove era presente il cursore prima di essere chiuso il file, con dei flick verso destra, potremo andare a scorrere. Intanto ci posizioniamo con il cursore nell'angolo in alto a sinistra, toccando appunto lo schermo sul pulsante indietro, possibilmente. Ecco qua, pulsante indietro, flick verso destra, condividi, inserisci oggetto, pulsante. Prima di continuare, una precisazione. Questo non è veramente un foglio, bensì sono tre fogli in una cartella. Ogni foglio contiene dei dati specifici. in un foglio sono registrate, possiamo registrare le uscite, in un altro le entrate, nel terzo vengono calcolate automaticamente le entrate e le uscite totali, cioè il totale delle uscite, il totale delle entrate e il cosiddetto disavanzo, ovvero la differenza tra entrate e uscite. Quindi, stavo facendo la panoramica, con dei flick da sinistra a destra, arriviamo fino a uno dei tre fogli e esattamente il primo è quello proprio delle uscite. Perché quello delle uscite come primo? Proprio perché è quello che utilizzeremo sicuramente più frequentemente rispetto a quello delle entrate. Uno vorrebbe il contrario, però di solito questo non succede. annulla, oscura, formato, organizza tabella, altro, nuovo foglio, uscite, foglio di calcolo, 1 di 3, sfondo bianco 100. Ok. Azioni disponibili. Adesso vi faccio ascoltare gli altri due, questo è il primo e le uscite. Entrate, foglio di calcolo, 2 di 3, sfondo bianco 100. E poi è selezionato, totali, foglio di calcolo, 3 di 3, sfondo bianco 100. In questo momento è selezionato il terzo foglio, quello dei totali, cioè quello che vi ho detto all'inizio, il totale delle entrate e delle uscite e il disavanzo. Torniamo indietro al foglio uscite. Doppio tap. Questi due fogli uscite ed entrate sono organizzati con tre colonne, tutti e due, e al momento ci sono poche righe, 5-6 righe, per ciascuno dei due fogli, ma logicamente le possiamo aumentare. E tre colonne, dicevo, le tre colonne sono la prima colonna a sinistra, sulla prima colonna andrà riportata la data, cioè nelle celle della prima colonna andranno riportate le date dei movimenti. Nella colonna centrale la descrizione del movimento, nella terza colonna, quella più a destra l'importo dell'operazione. I due fogli sono perfettamente identici dal punto di vista della struttura, per cui basterà semplicemente avere un pochino di, chiamiamola così, confidenza con la loro gestione e poi il resto sarà veramente molto molto semplice. Quindi andiamo con le flick verso destra e vi faccio vedere, inseriamo una riga soltanto. E qui ci sono i famosi indicatori di riferimento delle colonne, flick ancora verso destra. Indicatore di riferimento, indicatore di riferimento, colonna C. Nome tabella, uscì, indicatore di riferimento a diga 1. Allora, prima riga, qui ci sono i nomi delle colonne. Data, intestazione colonna, descrizione, importo, intestazione colonna, colonna 3. E adesso arriviamo alle righe e quindi potremo inserire il primo dato. Indicatore di riferimento a diga, data, cella vuota, riga 2, colonna 1. Allora, la data la possiamo inserire, dettandola, in maniera proprio discorsiva. Per esempio, possiamo inserire, che so, 22 marzo 2024. Il dato, una volta che è stato registrato dal foglio, praticamente verrà poi visualizzato alla lettura successiva, come, per esempio, nel caso di 22 marzo 2024, 22 barra 03 barra 2024. Per quanto riguarda l'importo, l'importo, diciamo, viene aggiunto anche automaticamente il simbolo dell'euro e vengono aggiunte due cifre decimali, indipendentemente dal fatto se inseriremo una cifra tonda o meno. Allora, quindi, stiamo sulla voce data, doppio tap. È selezionato, tocca due volte per modificare. Di nuovo doppio tap. È selezionato, campo di testo, stai modificando. E adesso un doppio tap con due dita. 21 marzo 2024. Inserito 21 marzo 2024. Voi mi direte perché il 21 marzo, giorno di primavera. Flick verso destra. Descrizione. C'è la vuota. Colonna 2. Doppio tap. Azioni disponibili. È selezionato. Tocca due volte per modificare. Doppio tap ancora una volta. Punto di inserimento alla fine. Allora, come descrizione mettiamo cena con gli amici. Cena con gli amici. Inserito cena con gli amici. Flick verso destra. Allora, l'importo. Allora, questa cena con gli amici è costata 50 euro a persona. Ho pagato per tutte e tre io. Quindi 150 euro. Ho dato la mancia al cameriere. Quindi 155. Doppio tap. È selezionato. Tocca due volte per modificare. Di nuovo doppio tap. Adesso doppio tap con due dita. 155. Secondo doppio tap con due dita. Mi muovo con flick verso destra. Qui già staremo sulla seconda riga. Quindi dovremmo dare un doppio tap con un dito. Per selezionare la cieli. Ma torniamo indietro e andiamo a verificare quel che abbiamo inserito con la dettatura. Ci ha detto anche il simbolo, cioè l'euro. Poi descrizione. Flick verso sinistra. Flick ancora verso sinistra. E sentiamo la data che noi abbiamo dettato. 21 marzo 2024. E' così come vi avevo detto all'inizio. Adesso non sto a perdere tempo ad inserire anche altri dati, nonché le entrate. Perché questo è identico proprio come procedura. Adesso io invece chiuderò questo file e andrò ad aprire un altro file che è quello dove sono stati già inseriti dei valori. Torno indietro. Ecco qua. Pulsante indietro. Tocco doppio tap. Pulsante iCloud Drive. Pulsante indietro. E qui c'è un archivio, diciamo, entrate e uscite, già compilato. Archivio, aggiungi, altro, pulsante, cerca, avvi, crea foglio di, archivio, archivio, archivio musica, archivio present, archivio present, archivio vino, entrate e uscite, entrate e uscite compilato. Doppio tap e adesso vi faccio sentire una cosa. Azioni di, avviso, Face ID, iCloud, avviso, voto non riconosciuto, riprova, riprova, prova di nuovo con Face ID, pulsante, autenticazione con Face ID, riuscita, è selezionato, uscite, foglio di calcolo, uno di tre, sfondo bianco, cento. Benissimo, è proprio questo quello che volevo fare, cioè per aprire questo foglio ho impostato, o meglio avevo impostato una password, una password e con la però funzione di poter sbloccare il foglio tramite il Face ID. Nel mio iPhone c'è il Face ID, ci sono gli iPhone con il Touch ID, per cui se abbiamo come metodo di riconoscimento il Touch ID o il Face ID, possiamo impostare che il foglio venga sbloccato tramite il riconoscimento biometrico, quindi senza la necessità di inserire ogni volta la password. Ma adesso vediamo come inserire la password e eventualmente come eliminarla. Quindi adesso che ho aperto tramite il Face ID, lì per lì non mi aveva riconosciuto perché il mio iPhone era rivolto altrove, quindi non inquadrava direttamente me. Allora, adesso come al solito partiamo dall'angolo in alto a sinistra, dal pulsante indietro. Pulsante indietro. Flick verso destra. Condividi. Inserisci. Annulla. Formato. Organizza tabella. Altro. Pulsante. Questo è il pulsante su cui dobbiamo fare il doppio tap, sul pulsante altro. Doppio tap. Entrate e uscite compilato. Allora, dopo che ci ha detto il nome, in questo caso entrate e uscite compilato, facciamo dei flick verso destra e andiamo alla voce specifica. Condividi. Foglio di calca. Rinomina. Sposta. Cambia password. Pulsante. E qui abbiamo cambia password. Vediamo cosa possiamo fare. Allora, vi dico che quando il foglio non ha la password, in questo caso dovrete inserire la password e poi reinserirla come verifica. Andiamo avanti. Adesso la password qui è già impostata, quindi andiamo avanti con dei flick. Nuova password. Richiesta. Campo di testo protetto. Verifica. Richiesta. Campo di testo protetto. Suggerim. Consigliato. Questi sono i dati, appunto, la password e la password da verificare con la seconda emissione. Campo di testo. Apri con Face ID. Interruttore. Attivo. Ecco qui. Questa è, diciamo, la casella da spuntare per lasciare spuntata. Secondo me è più conveniente utilizzare il Face ID che reinserire ogni volta la password a mano. Flick verso destra. Password. Pulsante. Q. Guardo. E qui, eventualmente, appunto, abbiamo la possibilità di inserire, diciamo, la password. Tornando indietro. Apri con campo di testo. Suggerim. Richiesta. Cap. Verifica. Richiesta. Campo di testo. Nuova password. Campo di testo protetto. Stai modificando. Richiesta. Vecchia password. Richiedi password. Interruttore. Attivo. Abbiamo, sono tornato indietro con dei flick. Il pulsante richiedi password e ci dice attivo. Se io lo disattivo, adesso mi chiederà di, appunto, sbloccare. Non attivo. Ok. Password. E qui abbiamo. Richiedi password. Inserisci la password del foglio di calcolo per rimuoverla. E qui mi chiede, appunto, la, diciamo, di inserire la password per rimuovere la possibilità, diciamo, di bloccare il foglio con la password. Richiedi password. Interruttore. Non attivo. Password. E qui dobbiamo inserire la password. Campo di testo protetto. Stappunto di inserimento alla fine. 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 Fine è selezionato. Data. Infestazione. Colonna. Ok. Il foglio in questo momento è stato sbloccato e quindi non mi chiederà ai successivi accessi la password per modificarlo. Allora, questa è una funzione. Un'altra funzione è quella, diciamo, di bloccare in sola lettura il foglio. E come lo si fa? Con il doppio tap con due dita. Cioè, il famoso tocco magico. Sentite adesso cosa ci dirà. Modalità lettura attivata. Ci dice modalità lettura. Quindi, in questo momento possiamo leggere tranquillamente e non abbiamo, diciamo, la possibilità di modificarlo, a meno che non lo sblocchiamo con un nuovo doppio tap con due dita. Quindi, io adesso lo sblocco perché vi voglio mostrare alcune cose. Doppio tap con due dita. Vado avanti. Questa è la famosa cena con gli amici che, non ricordo se ho messo lo stesso importo, comunque ha poca importanza. appunto, ho inserito un dato, una riga, diciamo così. Qui abbiamo una serie di dati. Allora, come posso, come dire, verificare, o meglio, l'elenco? Mi sposto con il rotore e vado su righe. Caratteri, parole, volume, intestazione, navigazione, riconoscimento, righe. Righe. E mi, diciamo, muovo verticalmente con dei flick. Colazione al bar, riga 3. Se voglio sapere quanto ho speso colazione al bar, ho fatto un flick verticale, faccio un flick orizzontale e sento. Importo, 5 euro e 50 centesimi. 5 euro e 50 centesimi. Azioni disponibili. Posso, con un flick verso sinistra, andare alla data di questa operazione. Descrizione. Colazione al bar, data 02-03-2024. Flick verso il basso. 05-03-2024. Il 5 marzo, vediamo cosa ho fatto. Descrizione. Acquisto nuovo iPhone. Colonna 2. Flick verso destra. Importo, 900 euro. Colonna 2. E via dicendo. Allora, io adesso devo cambiare il foglio e andare nel foglio Entrate. Devo, al solito, andare nella parte alta sul pulsante Indietro e per, diciamo, farlo più semplicemente rapidamente. pulsante Indietro. E poi mi sposto con un flick verso destra fino al foglio Entrate. Condividi, inseri, annulla, formato, organizza, altro, nuovo foglio, è selezionato, uscite, foglio di capo. Indicatore di riferimento a diga 1. È selezionato, data, infestazione, riga 1, colonna 1. Questi sono i nomi delle colonne. Descrizione. Importo, infestazione, colonna 1. Come vedete sono le stesse dell'altra. E adesso andiamo alla prima riga. Indicatore di riferimento a diga 2. Azioni di scuola. Data 01-03-2024. Riga 2, colonna 1. Logicamente sono cose fittizie inventate. Ci dice comunque il primo marzo, flick verso destra, pensione, importo e via dicendo. E qui ci sono gli importi delle varie entrate. Ho messo tre importi. Adesso andiamo al terzo foglio. Al solito andiamo sempre al pulsante Indietro, toccando nell'angolo in alto a sinistra. Pulsante Indietro. E adesso, sempre con dei flick, arriviamo fino a totali. Doppio tap. Vado avanti, con dei flick verso destra. Allora, totale entrate e adesso ci dirà, facendo un flick verso destra, quant'è l'importo complessivo di tutte le entrate. Risultato formula, 1825 euro, colonna 2. Ha sommato tutte le righe, tutti gli importi presenti nel foglio Entrate. Flick verso destra. Indicatore di riferimento a diga 2. Totale uscite. Totale uscite. Colonna 1. E adesso, flick verso destra. Questa è formata da due colonne soltanto. La colonna in cui sono presenti i titoli, diciamo, totale entrate, totale uscite e disavanzo. Flick verso destra. Andiamo alla colonna di destra, a fianco al titolo totale uscite. Sentite. Risultato formula, 1141 euro e 50 centesimi. Ho speso un po' troppo questo mese. Allora, flick verso destra. Indicatore di riferimento riga 3. Disavanzo. Disavanzo la differenza tra entrate e uscite. Flick verso destra. Risultato formula, 683 euro e 50 centesimi. Mi sono avanzati 600 e passa euro. Allora, una cosa che voglio dirvi, e è giusto, diciamo, segnalarlo, che Numbers purtroppo ha una sorta di bug che non legge il segno meno. Per cui, qualora le vostre uscite fossero maggiori delle entrate, lo segnala con il segno meno, ma VoiceOver non vi leggerà che il valore è negativo. Cioè, nel senso che è un meno, ipotesi, 50, un meno 100 e quant'altro. Quindi dovete stare bene attenti tra controllare, più o meno, non dico a occhio, ma così, a orecchio, più o meno quanto sono le entrate rispetto a quanto sono le uscite. perché, insomma, se eccedete troppo nelle uscite, in questo caso potreste ritrovarvi una brutta sorpresa se controllate soltanto e affidandovi soltanto a questa applicazione. Ma non è soltanto con l'iPhone. Questo è proprio una sorta di bug, di VoiceOver, non è tanto, diciamo, di Numbers. Allora, quello sulle entrate e le uscite l'abbiamo concluso e adesso andiamo a visualizzare un altro foglio di calcolo per un'altra cosa, quello che vi dicevo, l'orario presenze. Quindi, al solito, pulsante per tornare indietro e apriamo il file specifico. Pulsante indietro. Pulsante iCloud Drive. Pulsante indietro. Adesso, Flick. Allora, abbiamo questo, questo lo apriamo, questo è quello vuoto e ve lo apriamo per mostrarvi cosa e come inserire i dati. Pulsante è selezionato. C'è la vuota. Riga 2. Colonna 7. Azioni disponibili. Ci muoviamo con dei flick da sinistra a destra, anzi, partiamo al solito sempre da su, l'angolo in alto a sinistra. Pulsante indietro. Condividi. Inseris. Annulla. Formato. Organizza tabella. Altro. Nuovo foglio. È selezionato. Orario presenze settimanali. Sfondo bianco. Maniglia numero righe. Sei righe. Regolabile. Ci dice sei righe e sono... Maniglia selezione superiore sinistra. Maniglia tabella media sinistra. È selezionato. Tabella 1. Sei righe. Dieci colonne. Dieci colonne. Perché dieci colonne? La prima colonna contiene il nome della persona di cui vogliamo registrare la presenza e il numero di ore. Poi ci sono le sette colonne relative ai sette giorni della settimana. E poi ci sono due colonne alla destra di cui la prima calcola è una colonna in cui viene effettuato il calcolo del numero delle ore che abbiamo inserito. E la colonna a fianco ci dice in quanti giorni sono state effettuate queste ore di presenza. Questo calcolo avviene automaticamente. Allora, flick verso destra. Adesso qui ci sono i nomi delle rispettive colonne. Quindi, la prima è il nominativo della persona, come vi dicevo, poi comincia con i giorni della settimana. Poi abbiamo il totale delle ore. Totale ore. E poi la colonna a fianco è il totale giorni. Flick verso destra. Indicatore di riferimento. Riga 2. Nominativo. Cella vuota. Riga 2. Allora, il nominativo è semplice, si inserisce nel solito modo, toccando due volte con un dito, quindi la prima volta, seleziona la cella, la seconda volta inizia la fase di modifica. E poi possiamo dettare dopo aver dato un doppio tocco con due dita, cioè il tocco magico. Mario Rossi. Flick verso destra. Adesso iniziano i giorni. lunedì, allora, la modalità di inserimento è uguale a quella che abbiamo visto per altre cose. Tuttavia, il numero lo possiamo dettare, ma dobbiamo avere l'accortezza di indicare anche la virgola. Quindi, ipotesi, la persona ha fatto 5 ore tonde, dobbiamo dettare 5,0, perché se noi dettiamo soltanto 5, verrà compreso come un campo testo e non come un campo numerico. Le ore le possiamo dettare come numeri, diciamo, interi, quindi 5, però dobbiamo, appunto, aggiungere la virgola 5,0, ma anche le mezz'ore, quindi 5,5. Un quarto d'ora, 5,25. Però dovete avere l'accortezza, torno a ripetere, di aggiungere sempre la virgola e lo zero, se è un, diciamo, numero intero, oppure il suo specifico, diciamo, numero decimale. Allora, adesso vediamo, doppio tap. Doppio tap ancora. Diciamo che questa persona ha fatto 3 giorni, di cui il primo giorno ha lavorato 5 ore. Doppio tap con due dita. 5,0. Inserito 5,0. Flick verso destra. Andiamo a mercoledì. Doppio tap. Nuovo doppio tap. Dettiamo il secondo giorno 4,5. 4,5. Ok. Flick verso destra. Venerdì. C'è la vuota. Venerdì. Venerdì. Colonna 6. E qui, li dettiamo 3,5. 3,5. Inserito 3,5. Sabato. C'è la vuota. Colonna 7. Poi, per fare in modo che le due colonne che sono dopo la domenica vengano calcolate, diciamo, correttamente, dobbiamo arrivare alla riga successiva e selezionare, anche solo selezionare, il campo del nominativo. Adesso vi faccio ascoltare, perché adesso, se andiamo avanti, nella colonna del numero delle ore, saranno conteggiate esclusivamente le prime due cifre, cioè quella del lunedì e del mercoledì. Sentite. Domenica. C'è la vuota. Tot. Ore. Risultato formula. 9,5. Vi ricordate? Lunedì avevamo inserito 5 e il mercoledì 4,5. Ma, se noi, per dire, dovessimo dare un doppio tap, per esempio, sulla domenica, domenica. C'è la vuota. Colonna 8. Selezioniamo. Senza modificare. Andiamo avanti adesso con un flick verso destra. Tot. Ore. Risultato formula. 13,0. Colonna 9. Adesso ci ha calcolato anche il numero di ore inserito il giorno venerdì. E poi, l'altra cosa che farà, che calcolerà anche quanti giorni su quanti giorni sono state lavorate queste ore. flick verso destra tot. Giorni. Risultato formula. 3. Colonna 10. Ci dice 3. Azioni disponibili. Quindi, il calcolo, diciamo, lo fa correttamente, però, avendo queste due accortezze. Quello di dettare i numeri comprensivi di virgola, anche se il numero è intero, e poi, per fare il calcolo, di arrivare, se per esempio una persona ha lavorato anche la domenica, di arrivare alla riga successiva e selezionare per esempio la cella dove inserire il nome della persona successiva, anche senza inserirla. se invece per dire i giorni lavorativi sono stati fino al venerdì anche al sabato basterà selezionare la domenica e il calcolo verrà fatto automaticamente. Io spero che questo diciamo lungo ma forse anche complesso escursus su queste due modalità e su questi due tipi di tabelle sia stato comprensibile e possa essere soprattutto utile per le persone che ce l'hanno chiesto. Filippo De Santi se per Orbolandia vi saluta e vi dà appuntamento a un prossimo tutorial. all'articolo su Orbolandia con l'opportunità di scaricare direttamente le applicazioni o documentazione di supporto a questo video. Iscriviti qui di seguito sul nostro canale per essere avvisato in tempo utile quando pubblichiamo nuovi contributi. Grazie a tutti.